Però questo non è un film basta, ripeto non perché Claudio non c'è più, non perché Claudio e Claudio ne hanno fatti soltanto tre ma perché ha dimostrato che in una certa maniera, in un momento di un certo tipo, che va avanti da parecchio si possono ancora realizzare, non voglio chiamarli sogni perché dietro la parola sogno ci nascondiamo spesso un sogno è, allora lascio parlare tanto i sogni prima che si avverano, invece io porto in giro, noi portiamo in giro quando parliamo di questo film la testimonianza anche per chi vuole farlo questo mestiere, comunque sia a Cosenza come a Belluno che comunque si possono fare le cose e possono venire pure bene.